lascio sempre aperto qui c'era tutto l'umidità di indietro e dice ancora in fondo perché lì c'è una cosa dell'acqua del vino di umidità qua guarda che casino perché io dico che prima le metti mobili io questo già lo pulito una volta questo va tutto tutto sistemato si è iniziato già l'ho iniziata una volta quando ho messo sul letto quando ho fatto di questo mazza che crema qua ma come grossa sta crema come è intorno questa non c'era l'anno scorso come non c'era no da vedere dietro sono il confiniamo con il bagno con il bagno o l'altro con il bagno non è l'anno scorso questo non è questo non è